in territorio nemico è stato scritto da 115 autori quindi la prima domanda è d'obbligo come si fa a scrivere un libro in così tante persone beh ci vogliono sei anni tanto per cominciare poi si ottiene un libro che ha i titoli di coda un po come un film con tutti questi nomi e sicuramente posso dire ora spiegare il metodo sick in due parole è sempre complesso anche durante le presentazioni ci posso volere anche un paio d'ore a spiegarlo nel dettaglio mentre come sa chi ha partecipato all'opera sic applicarlo invece piuttosto semplice posso dire come non si fa cioè un libro sic come in territorio nemico o anche un racconto sic non è una staffetta cioè non è che ognuno ha scritto un pezzettino ma abbiamo un sistema di coordinamento e divisione dei compiti che fa sì che tutti gli autori concorrano a tutte le parti del libro in territorio nemico è ambientato durante la resistenza racconta la resistenza è nato prima il tema cioè voi volevate scrivere un libro che parlasse di questo o avete scelto il tema perché in effetti si presta bene ad essere raccontato da tante persone perché più o meno tutti quanti almeno nelle nostre famiglie hanno vissuto la resistenza hanno un bagaglio da condividere ma inizialmente volevamo scrivere un romanzo collettivo sapevamo solo questo il metodo sic che il progetto sic è nato nel 2007 e ha avuto vari racconti che sono stati scritti in fondamentalmente per sperimentare il metodo e poi solo nel 2009 quando abbiamo deciso di partire di fare sto salto nel buio perché sapevamo sarebbe stato un lavoro di anni è arrivata l'idea di fare un libro ambientato nel periodo dell'occupazione tedesca e di conseguenza nella resistenza esattamente per la ragione ha detto tu ovvero il fatto che sarebbe stato facile raccogliere aneddoti perché in tutte le case c'erano aneddoti del tempo di guerra come la chiamava mia nonna e in effetti quando abbiamo chiesto a tutti gli iscritti di mandare aneddoti testimonianze orali o testimonianze raccolte dalla loro comunità è arrivato moltissimo materiale da cui poi abbiamo scelto le storie più interessanti o più adatte poi una volta avuta l'idea abbiamo capito che in realtà stavamo facendo qualcosa di molto più importante perché esistono delle esigenze di memoria la resistenza è un fatto plurale che coinvolge tutta la nazione quindi come dette adatta essere raccontata collettivamente e poi c'è anche un grande filone la stessa minimum fax nella quarta di copertina ha fatto i nomi di fenoglio ma la parte calvino ovviamente facendo le debite proporzioni ma evidentemente in territorio nemico è un libro che prova a inserirsi in questo filone e di farlo anche in un modo rinnovato perché oggi effettivamente i testimoni originari come questi scrittori cioè coloro che hanno raccontato la resistenza dopo averla effettivamente vissuta non ci sono più e quindi è diventato anche nuovamente raccontabile qualcuno di questi aneddoti pescati nella realtà che è finito nel romanzo scegliene uno per noi ma intanto è importante dire che davvero tutte le vicende di snodo del romanzo vengono da aneddoti reali poi chiaro che via via che il romanzo si riempiva di materiale tutto quello che poi aggiunto dopo e che fa di contorno evidentemente finzionale chiaramente forse l'aneddoto più pittoresco è quello della gallina che è una vera storia di questa famiglia che aveva una sola gallina in tempo di guerra questa gallina faceva un uovo al giorno e questo era una componente fondamentale dell'approvvigionamento di tutta la famiglia e un giorno la gallina ingoiò un chiodino e stava strozzando allora tutta la famiglia riunita al tavolo però la gallina tagliando la gola tirando fuori il chiodo e ricucendola nella speranza che riprende guarisse riprendesse a fare uovo e guarì questo l'abbiamo inserito poi nel romanzo la gallina c'è anche una funzione simbolica perché concorre alla follia di uno dei personaggi nel romanzo ha ingoiato una molla di orologio però di nuovo dalla gappista a Milano alla corvetta gabbiano in cui prendono le mosse le vicende di Matteo Curti sono tutte storie reali e noi abbiamo sostanzialmente uscito insieme magari nell'originale erano tutte storie che accadevano a persone differenti mentre noi le abbiamo unite e le abbiamo fatte accadere a sole tre protagonisti